E' contenta di essere qua in compagnia? Sì, anzi tanto, perché io sono sempre sola. Venendo qua mi passa e sto qua e mangio anche più volentieri. Oggi è pasta suda. E' contenta, gli piace stare qua in compagnia? Sì, perché sono su e a casa. Anziani soli che il Covid, per la loro sicurezza prima ed oggi magari per depressione o nuove abitudini, ha relegato in casa. A venire in loro aiuto il Comune, con 13 associazioni di volontariato presenti in città, creando il progetto Collaborazioni di Vicinato, perché Vicinato è anche e soprattutto rapporti, rete sociale. Così del servizio mensa con tanto di menù settimanale per la terza età, studiato dalla dietista ai passi a domicilio se necessario. Ci sono palazzi di quinto piano senza ascensore e abbiamo alcune persone dai 85 anni in su che fanno fatica a fare 5 piani e quindi molte volte andiamo a portare noi, facciamo scegliere a loro come preferisco, anche se noi poi cerchiamo un po' di stimolarli a venire, perché lo scusa di venire, escono, stanno in compagnia. Poco importa se i pasti causa Covid sono veicolati, l'importante è stare in compagnia e poi c'è la cura dell'orto, servizi, piccoli e grandi aiuti a chi fatica a muoversi. Abbiamo un pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili con carrozzine, facciamo già servizio Covid nei centri di raccolta per il vaccino. L'obiettivo è anche quello di supportare tutte quelle realtà di volontariato che da più di un anno magari sono ferme per colpa del Covid perché non possono organizzare semplicemente magari le feste di quartiere. realtà del volontariato indispensabili per poter continuare un rapporto di rete necessaria per poter dare una risposta a tutti.